Per quello che non devi finire, non fai finire lo scudo. Sì, perché è lì che è il scudo. È lì che si lavora, tu fai, toccata, ok, vai adesso, ok, lo faccio anch'io. Tu non devi far finire lo scudo, mentre tu vai, ok, finito, ok. Non è neanche finito, e tra iniziamo con lo scudo e finito, la fine è lo scudo, ok, ci esci, perché alla fine, quando abbiamo terminato lo scudo, è una sensazione, tu devi sentire, è lì che fluisci, fai la tua stoccata e prosegui, 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 ok, fai la stoccata, no, 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 no. Ok, non devi far finire lo scudo. Ok. Ok. Tu senti quello affronato, quando devi entrare, appena ti è in contatto con l'arco. Ma ti serve, si chiamano ponti, non so, ma, ok, io faccio un ponte, poi faccio un cane, quindi io faccio un attimo così, e tu hai la reazione. Ma deve essere, mentre io faccio questo, e lui varia, è fattibile poi variare, sì, perché quando, ok, devo, perché, perché se solo lavorare negli spazi, quando vi dico, c'è lo spostamento, e poi faccio l'azione, lo spostamento, faccio l'azione. L'azione deve iniziare, deve variare nel momento in cui senti che proseguo formato, ma non devi farmi arrivare in assetto lo stesso. Se io faccio attacco con l'angolo, così, non è, oh, e poi vado, no, vado, no. Senti che io non te lo faccio terminare. Mi sembra normale. L'altro sente come se mi manca l'appoggio. Ok, se io faccio quel attacco, lui all'altro sente che hai sempre l'appoggio. Non deve avere l'appoggio. Senti che io manca, se no andiamo sempre, se no andiamo sempre, no andiamo sempre, si chiama instante, andiamo in un attacco di instante. Ok, se lui è bravo, poi, cosa succede? Ok, ok, poi esiste. Hai sentito? È una situazione di stagione. Dove stai lì e ti ricerchi un barco. Il primo che molla è fregato. All'altro testo che finché è uno deina. ん Already! Isto è un barco. Lo amiamo sempre, percorso è un barco. Tanta nell'azione, ti ricerchi un barco di attenzione. Ti copro dovresti aiutate,